Il Vangelo secondo Bagatta American Superbasket del 2.15 ottobre 2002 Ed a proposito di Dallas, c'è chi giura che Tim Duncan, da sempre un ammiratore dello stile Cuban Alla fine del prossimo campionato si sposterà sia a destra, ma non di molte miglia Finendo i Mavs pronti con lui ad essere realmente la squadra dominante del futuro prossimo avventuro Grazie 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 Grazie